Il ringraziamento del Secretario Generale va ovviamente alla Regione Veneto, alla città di Caorle, della persona del Quantempo e in particolare al dottor Angelo Tavaro, quale promotore del progetto Gli aspetti culturali dei rapporti in ambito della comunità Alteabria, così come tutti gli attori e tutti coloro i quali si sono prestati per la migliore realizzazione di questa quarta edizione. Un particolare ringraziamento va al dottor Antonio Cassutti per la scelta oculata di tutti i poeti che nei prossimi giorni ci aiuteranno con i loro testi.